buongiorno a tutti questo il mio secondo video e farò vedere degli acquisti che ho fatto ieri da tiger e dal paradiso delle sorprese il paradiso delle sorprese un negozio che c'è a torino in via garibaldi perché di torino vuole andare a farci una visitina è un negozio dove vendono un po di tutto da oggetti di casa a cancelleria poco prezzo allora comprato da tiger questi evidenziatori carinissimi di carnevale perché ci sono le maschere poi ho preso anche questo block notes questo è tutto a un euro e anche questo magnete sempre di carnevale invece di san valentino ho preso questi cuoricini che possono sembrare dei coriandoli e questo quaderno fatto a cuore sempre un euro poi ho preso questa penna rosa che c'è il pompon che è morbidissimo e bellissimo sempre un euro invece al paradiso è anche questo washi sempre con le mascherine anche un euro e questo spazzolino invece preso delle sorprese ho preso queste candele un euro e 52 perché ad aprile farò un trasloco di casa quindi volevo mettere sul tavolo per fare un po bello e queste porta candele di vetro e questa penna degli unicorni detto che sono fissata con gli unicorni invece per il carnevale ho preso questa ghirlanda sempre da tiger 1 euro è il cappellino 3 euro e mi vestito così dato che vado a una cena in un locale mi voglio travestire da calzedonia l'altro giorno ho preso queste calze sono tre paia 5 euro perché di solito invece costano all'uno 5 95 questo tipo con bianca neve grigio questo tipo con i sette nani colore granata e questo rosa sempre con uno dei sette nani sono bellissime io cercavo anche quelle con le principesse disney ma c'era solo da bambino peccato comunque questi oggetti da tiger li ho presi alcuni per me altri e altri invece per altre ragazze perché sono iscritta su facebook a un gruppo che si chiama corrispondenza italia e ogni tanto fanno degli eventi per esempio questo quadernino lo darò una ragazza per il giorno di san valentino e invece questi qua con le maschere lo darò un'altra ragazza perché c'è l'evento della c'è l'evento di carnevale in pratica si fa con questa bustina divisa in nuove sezioni queste di halloween dell'anno scorso e ci si mette delle ci si mette delle cose non mi viene mai il nome di questa bustina questa è la di halloween questa invece è la confezione che mi hanno spedito poi per esempio un altro evento che fa questo gruppo sono i pample books questo l'ho fatto io questo lo spediamo a varie ragazze e dentro vengono decorate e scritte questo mi è ritornato indietro perché è finito e ogni ragazza quando riceve lo decora e fa delle scritte altri eventi che hanno fatto è stato il calendario dell'avvento a natale dal primo al 25 dicembre si fanno dei regali come per esempio questo book e poi altri regali questa cartolina eccetera eccetera e questo gruppo è soprattutto nato per la corrispondenza tra ragazze ma sono anche ragazzi e se volete iscrivervi iscrivetevi pure lo trovate a corrispondenza Italia per il resto non ho niente da dire ho finito il video grazie a tutti iscrivetevi grazie a tutti